Grazie Grazie. 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 1,2 sinistra destra ancora 2 2 si vede? si, poi il timing è giusto respirando e mentre stai guardando devi andare a scuola la difficoltà si sarà troppo alta io non riesco a recuperarmi e diventerò sempre più scorso questo scopo lega qui il giro il giro il giro destro e non salta non so fare le tratta con le schien lo recivo lascia un troppo il giro questo è il giro è giusto tu stoi in derrade Deve fermare, fermo in centro, ancora, è in qua, io mi lascio tutti, mi lascio in linea.